La tredicenne avrebbe riconosciuto uno degli aggressori e a fornire ulteriori riscontri sull'accaduto aiutando i carabinieri a risalire ai complici è stato uno dei sette fermati. La vittima sarebbe stata violentata da due degli indagati sotto gli sguardi degli altri cinque. Era con il fidanzato nei giardini comunali di Villa Bellini a Catania quando il branco composto da egiziani ha minacciato, bloccato e tenuto lontano il ragazzo. Gli abusi sarebbero avvenuti nei bagni pubblici della villa. La tredicenne è stata soccorsa ad alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra in lacrime per il dolore e lo shock accanto al fidanzato e hanno chiamato i carabinieri. Una volta arrivati sul posto i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato gli accertamenti. Sull'accaduto sono state aperte due inchieste e sono stati emessi fermi dalla procura distrettuale e da quella per i minorenni. Entrambe le procure hanno disposto accertamenti tecnici sui cellulari sequestrati agli indagati, si cercano contatti ed eventuali video nei loro smartphone e si vuole accertare a quale cella telefonica erano agganciati quando è avvenuta l'aggressione alle 19.30 circa dello scorso 30 gennaio. Mentre le tracce biologiche relative alla violenza analizzate dal RIS di Messina hanno restituito un match positivo che coincide con il DNA del minore che avrebbe fisicamente violentato la tredicenne. Intanto il legale di una delle sette persone fermate al quale era stato affidato d'ufficio l'incarico di difendere uno dei minorenni ha rimesso il mandato perché, ha comunicato l'avvocato, non sussistono i profili per assumere l'incarico.